vediamo un po' se riusciamo a vedere i muli perché ci stanno tutte queste mosche? perché ci stanno i muli qua? infatti è curioso, è merone ehi, buongiorno bimbo, che dici? no bimbo, non si ringhia, non si ringhia i muli no Pippo, no, no zitta, zitta, zitta ehi, vieni l'assemblea, ci viene, tu gli abbassi ehi, Pippo, no, Pippo, no Pippo, ci è venuto a salutare, zitta, zitta, zitta guarda quanto è buono che ci viene a salutare e tu gli fai brutto, perché? eh? 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 c'è paura, perché sono gli ossicinossi, non la dovresti mai eh? 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 ci, 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 ci vieni, ci shh, ci, 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 ci andiamo, andiamo, andiamo dai, andiamo dai, buddy, dai lasciamoli pascolare tranquilli, su andiamo 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 andiamo